Proxen è qualcosa di incredibile perché mescola anche questo in generi, va molto più verso il reggae, ma un incastro ritmico per esempio fra basso, batteria e chitarra è assolutamente incredibile, a un primo ascolto sembra che ognuno va per conto proprio, ma in realtà sono tutti incastrati. Abbiamo fatto la strofa di tornello e poi ancora un pezzo di tornello. Grazie. 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 Grazie.